nuovo appuntamento con cibo ed intorni cari amici di canale 8 di vg channel ben ritrovati oggi vogliamo parlarvi intanto da dove vi parliamo dalla fondazione banco napoli un luogo assolutamente suggestivo e di cosa vogliamo parlarvi di un premio che per la prima volta collega il mondo dell'arte a quello altrettanto creativo e artistico dell'enogastronomia della gastronomia io sono in compagnia di antimo caputo amministratore delegato di mulino caputo perché questo premio di cui vi parlo è proprio il primo premio caputo lei allora più di ogni altro ci può spiegare da che cosa è venuta fuori l'idea di questo premio che celebra anche un po i primi cento anni primi cento compleanni della vostra azienda sì l'ispirazione è stato mettere insieme parole come farina arte e anima è l'occasione ovviamente sui nostri cento anni vogliamo ridare indietro un piccolo pezzettino di quello che cento anni abbiamo ricevuto di straordinario dal luogo dove noi viviamo con l'azienda viviamo come persone quindi veramente abbiamo voluto dare indietro soprattutto ai giovani oggi napoli è una città piena di arte piena di anima il cibo secondo noi è un collante straordinario un momento di racconto di condivisione di allegria di gioia quindi abbiamo voluto chiedere a dei giovani artisti napoletani un progetto che vede una collaborazione fortissima con l'accademia delle belle arti e soprattutto valore tale che è un motore straordinario di realizzare delle opere dedicate al cibo e alla tradizione popolare nel no diciamo attraverso la scoperta dei bassi napoletani e dei vicoli quindi fondere tutte queste cose insieme in occasione del nostro cento anni e celebrarli qua alla fondazione del banco napoli veramente che ricorda dei libri che partono nel 1400 e quindi fondere storia racconti anima saperi sapori mettere tutto questo insieme e cercare di più che di festeggiare di dare ai giovani un'opportunità di racconto e di emozione per gli altri e trasferire con nuovi codici anche di visuale di comunicazione quello che è il nostro mondo si è trattato sicuramente di un percorso molto stimolante per i ragazzi che come come sempre d'altronde le giovani generazioni sanno inventare delle cose straordinarie quali sono quelle che vi hanno colpiti di più allora questo è un progetto che è durato un anno che visto una grande collaborazione devo dire la scoperta da parte nostra dell'accademia delle belle arti anche dei giovani venire nelle aziende è stata devo dire una ricchezza di conoscenza straordinaria e sicuramente vedere che ne so il calco delle mani di mio padre è stata un'emozione fortissima insieme che contengono il grano da cui tutto proviene vedere in digital sfogliare i racconti le memorie quei libricini che tutti abbiamo a casa della mamma della nonna che si tramandano queste ricette quindi richiamano come dire evocano questa grande tradizione di richiamo popolare di storico dei nostri cibi ecco vedere il futuro attraverso la sostenibilità dei nostri impianti quindi mettere queste cose insieme veramente i giovani hanno questo sguardo molto pulito bello ed emozionante. Un'ultima domanda dottor Caputo che cosa resterà questo è stato un anno veramente straordinario per voi avete messo in piedi tantissime iniziative avete raccolto tantissimi consensi una delle delle ultime cose meravigliose è stata l'inaugurazione la posa diciamo di una pietra di questo enorme nuovo non so come chiamarlo laboratorio di bontà che ci sarà a Campobasso insomma che cosa resterà dopo questo? Il tema dei nostri cento anni abbiamo potuto condividere con quante più persone possibile il percorso dei cento anni e questa grande emozione della nostra azienda ma soprattutto la nostra famiglia e quindi quello che rimarrà è che stare insieme stare insieme si va lontano si possono fare tante cose e costruire come dire qualcosa di bello per tutti per oggi ma anche per i domani. La professoressa Olga Scotto di Vettimo è la curatrice della mostra arte e cibo che è la mostra collegata a questo evento a questo primo premio Caputo avete avuto molti studenti che hanno chiesto di partecipare e tantissime vorrei chiamarle branche sulle quali questi studenti hanno lavorato. Sì esattamente abbiamo chiesto agli studenti di poter di potersi esprimere liberamente con tutti i linguaggi dell'arte e devo dire che loro sono stati particolarmente bravi a declinare il tema dell'arte e cibo attraverso un'esperienza individuale personale intima inserendola all'interno della struttura identitaria della nostra cultura napoletana e del territorio Cappano e in particolare intessendola con quelli che sono i rapporti emozionali e storici e memoriali della famiglia Caputo e dell'azienda Caputo. Sono 28 opere di linguaggi molto diversi abbiamo pittura, scultura, videoinstallazioni, installazioni in cui il tema del cibo è a volte annunciato solo simbolicamente, altre volte invece è proprio dichiarato anche negli stessi materiali, per esempio l'idea di utilizzare la farina per fare un impasto di sale che diventi appunto materia con cui realizzare dei pani oppure delle spighe. Abbiamo avuto tre vincitori e una menzione speciale, i tre vincitori in particolare hanno voluto richiamare sia il valore emozionale del cibo attraverso per esempio l'opera dell'artista di nazionalità cinese che ha realizzato un video in stop motion e una pizza vera e propria ricordando il legame affettivo e di cura che passa attraverso appunto l'alimento. Oppure chi ha voluto consacrare la spiga di grano, il sacco Caputo facendole diventare un elemento simbolico, un reliquiario che appartiene appunto a questa cultura. Ma abbiamo visto davvero tantissime belle opere, anche voi potrete venire a vederle qui alla Fondazione Banco Napoli, farete due cose belle in una volta sola perché anche la Fondazione merita di essere visitata ma con le opere avrete una spinta emotiva davvero molto molto forte. Grazie per essere stati con noi, appuntamento online sul canale YouTube di VG Channel e poi la prossima settimana qui su Canale 8. Alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!